Si svolgerà alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dal 23 aprile al 1 maggio 2022 l'86esima edizione di Mida, la mostra internazionale dell'artigianato. Sono già numerosi gli espositori che da ogni angolo d'Italia e in rappresentanza di vari paesi esteri, dalla Francia alla Tunisia, dal Marocco al Perù, Egitto, India, Madagascar, Pakistan, hanno deciso di non rinunciare al tradizionale appuntamento primaverile fiorentino. Potranno fin da adesso accedere alla piattaforma Emporio Mida, la vetrina digitale per la promozione gratuita, 365 giorni l'anno dei propri prodotti. L'obiettivo principale è unire l'anima tradizionale della mostra con la crescente attenzione verso il design e l'artigianato digitale. Craft 4.0 presenterà in fiera opere innovative, frutto dell'incontro fra fratto a mano, design e nuove tecnologie. Un piede nella tradizione e uno nell'innovazione sarà anche l'itmotiv di Made in Mida, l'artigianato che sarà, progetto che sancisce ufficialmente la collaborazione stretta tra sei imprese artigiane toscane e altrettanti designer, con la creazione di sei oggetti esclusivi e iconici con il marchio Made in Mida. Stiamo assistendo a una ripresa di fiducia e ottimismo da parte di molte imprese artigiane che hanno già confermato la loro partecipazione alla mostra 2022, ha dichiarato Lorenzo Beccattini, presidente di Firenze Fiera, a riprova del desiderio di ricreare dal vivo quel rapporto vitale con il grande pubblico in cui ognuno ha avvertito la mancanza dell'altro. Grazie a tutti.